Qua dicono che sei il paradiso della pasta, ma me lo fai un bel salto in bocca alla romana? Un salto in bocca alla romana? Vabbè dai, ma sei certo che c'è il bacio? Eccoci, qui abbiamo tutti gli ingredienti per fare un bel salto in bocca. Delle fettine di vitella, le saliamo leggermente, le pepiamo, ci mettiamo una bella fetta di prosciutto, una foglia di salvia, poi lo spolveriamo con un po' di amido di mais, così possono mangiarlo anche le persone che sono intolleranti al glutine. Poi fermiamo la foglia di salvia, il prosciutto insieme con uno stuzzicadenti, appoggiamoli qua, li facciamo rosolare bene da tutte e due le parti e poi gli metteremo un goccio di vino bianco e adesso lo sfumiamo con un goccio di vino. Gli mettiamo una spruzzata di pepe e ecco qua il nostro salto in bocca.